Studio del canto gregoriano, graduale a summo cielo, si trova a pagina 27 del libro graduale romano. Viene utilizzata una tastiera per capire bene la melodia e i suoi intervalli, poi sarà da cantare senza accompagnamento. Viene utilizzata una tastiera per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata una tastiera per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. Viene utilizzata per capire bene la melodia e i suoi intervalli. ho cercato di cantare legando molto slanciando le frasi all'inizio e riposandole alla fine Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano Scola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, gennaio 2009